Siamo di mantenere se possibile ragazzi bravo a destra e Charlie a sinistra Capi Contatto 165 collina alberi Panteria Trovi ricevuto formiamo una linea Il tigre sta qua cazzo cieco Termativo li vedo, fuoco fuoco Atterra, atterra Vi do copertura, legge se vuoi sono ben piazzato Ricevuto, ok Charlie Charlie rimane, io insieme a bravo avanziamo Capi Era un AT, occhio per eventuali rifleman Sinistra Affermativo si Colpi da sinistra Si colpi da sud-est 120 Bravo provate ad avanzare più verso nord-est E beccarli sulla fiancata Charlie Contatto Contatto, contatto 0-9-0 Batteria A fianco a me ragazzi Gas a terra Marker Forza, forza Benna Sono vicino a terra Benna Inglesi a terra Inglesi a terra Inglesi a terra Copy Black Sfringiti Ok Black Se hai posizione Se hai visuale ottima da lì Se hai visuale ottima da lì Puoi anche rimanere Rimarmi? Copy Certo Cerca di trovare una posizione per vedere la cresta e la collina di fronte Eh sì sì Mi sto cercando di alzarmi di altezza Ok Charlie se siete su Cercate di ripulire la cresta e affacciarvi sul nostro vecchio fob Bravo rimane qua finchè ci puliamo tutti Guarda il medico Copy Sì sì Ci volevano girare questi bastardi Sì Eh qui Blake sono sulla cresta e mi posiziono con la MG Copy Eh il resto di Charlie raggiungete Blake e formate una linea Allora abbiamo contati a sud per certo Affermativo sì sì Mi servono i due MG su questa collina a coprire la cresta della collina frontale Il resto insieme a me Avanziamo Un momento Col Siamo verso Mi porto in formazione Bene Affermativo Vediamo Vedo Smok nemico Verso 127 La parte sinistra bassa della collina di fronte alla vostra ragazzi Confermate? Sì sì arrivano Dietro questa collina Ok perfetto Apriete pure il fuoco Andiamo verso destra Andiamo verso sud ovest Ok Ricevuto Siamo dietro il retailedger Copy Formiamo linea ragazzi Formazione Avanziamo verso est Ci mettiamo lì Ci mettiamo lì Ok ricevuto Allora vi raggiungiamo noi Ok Avanziamo ragazzi Uno Vai Miller Vai Miller Fatti da voi ragazzi Andiamo andiamo Contate sud ovest E' appena morto Ultimiliter 4 Sì ci piazziamo subito Recevuto Piazziamoci sulla collina E sorveghiamo sud ovest Fanteria nemica Fanteria nemica 2-5-5 Ingaggiate Atterra 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 Spostiamoci agli a destra dell'MG Ok Mettiamoci sul punto No purtroppo il rally è schierato Atterra Atterra Non ce l'ho più Ottimo lavoro Ricevuto Ottimo lavoro Miller Ci marcano Ci marcano Ci marcano un sacco di cascati Ricarico Ok Ok Formate una fila Sieme a me ragazzi MG rimanete pure sul posto Copy Se avete visuale buona Diversamente spostate Vedo contatti Direzione marker Logi nemico Logi nemico 2-5-5 Perciò di me Cambio Copy Io controllo 1-6-0 in direzione dei caschetti segnati Immagini amica Ragazzi Direzione 200 Copy Ricevuto La vedi tu Valerio? Da uno sguardo Contatti Copy Multipli Fanteria 1-9-0 Passa contro gli alberi Distanza circa Distanza circa Recevuto 250 metri circa Inghaggiate pure Mi sposto sulla posizione Valerio Copy Non ho contatto visivo Troppi alberi Valer Sì Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Ottimo Ottimo Valerio Cercano di attraversare la sua Valerio? Esatto Esatto Lo vedo Contatto marker ragazzi Ricarico Multipli contatti Copy Miller ricarico Ricarico Normalmente su ovest Ok mi muovo Miller Mi serve fuoco di soppressione Sulla parte frontale Mi piazzo io Mi piazzo io Mi piazzo io Inizio Ricevuto Vai Valerio Attraversate la strada Sulla parte Miller pronto? Ti raggiungo Devo ricaricare la Miller Dammi il cambio Ragazzi fuoco di soppressione Copriamo Valerio Copriamo Valerio Breccio a destra 285 Benna Benna tieni sinistra Tieni sinistra Guarda Qua Tieni qua Charlie Su Charlie MG Chia Sulla parte Thoughts Sulla parte Sulla parte Llego Da Sulla parte Sulla parte